ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi sono qui con riccardo che ci spiegherà un nuovo gioco ora passo la parola direttamente a lui ciao a tutti e benvenuti al nuovo video allora oggi spieghiamo Quarriors che è un gioco praticamente da 2 a 4 giocatori della durata di 30 minuti ed è un dice 15 adesso noi l'abbiamo già intavolato e andiamo a giocare insieme ok ragazzi allora abbiamo già intavolato il gioco quindi come avete potuto vedere dalla panoramica allora abbiamo le prime carte qui che sono le carte base quindi queste rimangono sempre e abbiamo l'essenza base quindi sono dopo vi faccio vedere di assistente e portali poi qui invece abbiamo tutte e tre incantesimi che vengono presi da questi vengono estratti tre da questo mazzetto qui quindi ce ne sono diversi faccio vedere un tipo di carte vengono estratti tre di questi e poi messi sopra i vari dadi che troviamo all'interno della confezione invece queste sono tutti i Quarriors cioè le creature che lo stesso vengono estratti da questo mazzetto qui ne vengono estratte 7 da questo mazzo qui e si mettono nel diciamo nel tavellone principale e lo stesso si tirano fuori i dadi e si mettono nella posizione proprie allora per giocare è un gioco da 2 a 4 giocatori quindi si preparano 4 o 2 o 4 sacchetti per giocare ed ecco qua sono 8 essenze base più 4 assistenti ogni giocatore ha questo di starter poi con le essenze piano piano si compreranno i Quarriors uno per ogni volta che si compra insomma lo scopo del gioco è arrivare adesso siamo in due per esempio perché siamo io e Riccardo per arrivare dobbiamo arrivare a 20 in questa tabellina qui a due giocatori e 20 poi da 3 a 15 a 4 e 12 punti gloria oppure si devono finire 4 di queste carte qui ok adesso andremo a fare una piccola partita dimostrativa io prendo il colore blu e Riccardo prenderà il colore verde adesso inizio io mettiamo tutti i dadi dentro che è questi qui che vi ho fatto vedere prima li mettiamo dentro al sacchetto ok acidiamo bene il sacchetto e ne andremo a entrare 6 ah ma vi ho fatto vedere un attimo prima di partire vi faccio vedere un attimo il dado come è composto questo è un è il diciamo il mostro che trovate uno dei dati che trovate nella confezione insomma che poi è anche la confezione stessa adesso vi spiego un attimo tutti questi simboli allora andiamo a spiegare questo qui questo qui è il costo per evocare il cuore or questo qui è l'attacco e questa qui è la difesa del nostro della nostra creatura per giocare ovviamente i questi cuore or se bisogna usare questo 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 costo qui che si fa con queste goccioline che sono l'essenza base insomma è il mana base diciamo questo è da 1 questo è da 2 qui invece abbiamo che possiamo usare o il 3 quindi 3 mana oppure ritirare il dado poi abbiamo altri altre facce che costo 2 per evocarlo 6 di attacco 6 di difesa e questo qui è un simbolo che viene dato dalle carte perché nelle carte a seconda dell'abilità della carta c'è un simbolo o due simboli oppure dice direttamente la carta quello che bisogna fare ok ok adesso come avevo spiegato andiamo a estrarre cioè io andrò a estrarre 6 dadi da questo sacchetto e andremo a giocare insieme ok allora 3 4 5 e 6 ok allora quelli che ho tirato fuori sono questi quindi sono 3 senza base e 3 assistenti adesso vado a tirare ok ok allora per farvi vedere come funziona un assistente giro un attimo la faccia per farvi vedere come funziona allora mi è uscita questa faccia è l'assistente quindi uno questo qui è il costo per evocarlo uno è il costo per evocarlo questo qui è un altro uno è l'attacco e questa è la difesa del nostro assistente quindi farò così userò un'essenza base che è questa per evocare l'assistente e lo metto nel mio campo di battaglia e questo lo metterò al mio cimitero quindi lo porto qua e poi abbiamo 4 ok abbiamo 4 essenza base e ci andiamo a comprare o un warrior o un incantesimo oppure potremo andare a comprare una di queste cose base qua una a turno bisogna comprare il costo delle carte le vedete nelle carte stesse a sinistra eh esatto a sinistra vedete il costo della carta per comprare e sopra vedete il punto gloria che poi vi spiegherò come funziona acquisire i punti gloria allora io ho fatto 4 andrò a prendere questo dato qui che è un diciamo allora c'è scritto potente fanatico del sacro quesito dopo se fa l'asterisco andremo a leggere quello che farà la carta stessa ok metto tutto nel cimitero e passo il turno a riccardo quindi io pesco 6 danni vorrei io 5 6 la lanciare questa è la creatura di riccardo la mettiamo qua ok ok io ho lanciato questi dati e mi è capitato questo risultato ok quindi questo vuol dire un reroll che bisogna usare il dato stesso che è uscito reroll più un altro dato a vostra scelta che è uscito insieme quindi io decido di ritirare questo dato con questo dato qui e mi è capitato un assistente poi per metterlo in campo pago con questo quindi lo metto in riserva e metto il mio assistente e con quattro essenze di energia compro il portale questo dato che ha una faccia con scritto 1 e con scritto 2 ok allora vi spiego brevemente cosa fa il portale allora il portale con la faccia che è scritto 1 ti permette di pescare un dato dal sacchetto e ritirarlo e tirarlo insomma lo giocate subito invece se c'è scritto 2 ne pescate 2 e li giocate tutti e due subito quindi invece di 6 ne giochereste 7 o 8 dadi e contiene anche una faccia di essenza quindi prendo tutti i miei dadi tranne l'assistente perché l'ha giocato e adesso andiamo a vedere come funzionano gli attacchi delle creature allora siccome ha giocato un assistente ogni volta che si gioca una creatura lei attacca sempre quindi andando ad attaccare lei fa 1 io mi difendo con quella da 2 quindi non succede nulla non succede nulla se io invece ne avevo 2 quella di Riccardo moriva esatto adesso tocca a me quindi andiamo a vedere come si ponteggia perché quando avete i warriors nel campo di battaglia diciamo quando ritocca il turno vostro insomma li andiamo a conteggiare sulla carta vediamo scritto a destra in alto a destra quanti punti gloria dà ogni creatura quindi li andremo a vedere qui allora questo qui dà un punto gloria quindi io che ho il sacchettino blu faccio un punto gloria e questo qui mi va a finire nella riserva del 5-0 e ogni volta che si conteggia un dado quindi qualsiasi creatura si può rimettere a posto un dado che avete nel cimitero quindi io faccio così lo rimettiamo lo possiamo rimettere al suo posto serve un po' per diciamo per non acquarire il mazzo perché se no andremo a finire tutte senza base però nulla vieta che le potete riacquistare queste se non avete mana insomma che tirate senza mana li potete prendere una di quelle ok rimetto tutto nel cimitero e tiro gli altri miei sei dati che erano questi qui adesso li andiamo a tirare mi è venuto un solito assistente quindi pago uno e questo mi va a finire il cimitero e metto il solito assistente da un costo da una mana per l'acquisizione e poi un danno e due di difesa e poi quattro per comprare questo qui che è la tre questo qui fa questa creatura guadagna più quattro in difesa quindi quando esce la faccetta del dado così quando esce questa faccetta del dado possiamo decidere di usarla su una creatura che prende più quattro di difesa quindi mettiamo tutto al cimitero e facciamo il danno ma un danno contro due di difesa non succede nulla e passo il turno Riccardo innanzitutto conteggio il mio assistente quindi faccio anche io un punto vittoria un punto verde poi prendo se vuoi la regola che abbiamo detto prima vale vale quindi quando conteggi puoi toglierti uno di questi dati se vuoi mi tolgo uno di questi dati esatto e va rimesso nel nel suo apposito contenitore questo va scartato si ritorna quello conteggiato ritorna al cimitero diciamo sulla riserva io tiro fuori gli altri 6 dati ovviamente se vi sbagliate che mettine tirate fuori 7 dovete rimettere tutto dentro e ritirarne fuori 6 precisi perché poi piano piano man mano che andate avanti i dati diventeranno sempre di più perché andate quindi più dati per costruire il vostro mazzo ok ho 4 assenze e il reroll con l'altro dato e decido di ritirare questo dato con questo ok assistente è umana è umana quindi spendo umana per tenere questo assistente e le restanti 4 compriamo un warrior direi di comprare questo da 4 che è il potente fanatico del sacro quesito che ha 2 di costo 2 di attacco e 4 di difesa ma ci sono anche altre facce qualsiasi creatura perché non vi preoccupate se non avete mana perché qualsiasi creatura ha sempre una o due facce per il mana quindi non vi preoccupate se se dite che non c'è mana o cose del genere insomma perché ce l'avrete sempre per giocare ok ritocca a me quindi conteggiamo il nostro assistente perché è arrivato cioè è rimasto in campo incolome alla battaglia quindi riandiamo a vedere sulla carta facciamo un punto gloria quindi il blu si muove di uno rimettiamo tutto al cimitero il sacchetto è vuoto questa volta che si fa se il sacchetto è vuoto se il sacchetto è vuoto va rimesso tutti i dati che abbiamo acquistato quindi tutti quelli del cimitero vanno rimessi dentro al sacchetto e poi andiamo a ripescare sei il giro è sempre questo quindi peschi sei giochi, lavi compri e attacchi allora io non tirati fuori due tre quattro cinque adesso vi faccio un esempio che ne tiro fuori troppi cosa devo fare adesso guarda quanti non tirati fuori quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto ne sono troppi quindi che faccio rimetto tutto dentro e automaticamente ritiro fuori sei che non importa sei quindi non vi preoccupate se ne tirate fuori troppi che vanno sempre rimessi dentro allora tre e tre sei eccole qua vi faccio vedere un attimo abbiamo due assistenti e un fanatico del fanatico del sacro e tre e senza andiamo a tirare ci spiace andiamo a tirare qua sopra lo ritiro ok sono usciti tutti i mana quindi con il mana compro allora due tre quattro cinque sei e sette mana con sette mana mi compro questo qui che è il potente di morte che è tipo un voglia diciamo quindi questo fa più danno guardiamo un attimo le faccette del dato visto che questo è un dato nuovo due di costo quattro di attacco e quattro di difesa questo è il mana mana uno tre dopo a seconda delle facce insomma quella lì che avevo fatto vedere è quella più alta poi sulla carta dice l'effetto quindi ogni volta leggete le carte tutto quanto quindi io rimetto tutto al cimitero e qua so Riccardo che automaticamente dovrà rimettere tutto dentro prima conteggiare questo prima conteggio conteggia l'assistente un punto gloria un punto gloria posso togliere un altro esatto io per esempio mi sono scordato e non l'ho fatto non va bene così e poi lì mi ha scordato tutto 5 e 6 eccoli qua lo tiro allora ho un assistente e ho 5 essenze con un'essenza ci fa un assistente esatto e gli altri 4 ricompro un'altra carta da 4 che è un altro fanatico è un processo di brinca ok è un'altra Grazie a tutti. 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 Sui nostri social, quindi Facebook, Instagram e ovviamente YouTube per seguire i nostri video, i prossimi video. Perfetto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.